Grazie a tutti. Credo che interessi il nuovo in una città che deve essere ricostruita rispettando l'ambiente, la bioedilizia, il risparmio energetico, le fonti rinnovabili, sapendo dire stop al consumo del suolo, come Giorgio De Mattei si ha garantito di fare e si è impegnato a fare. Per noi Verdi PD e PDL lo dimostrano in Abruzzo e in tutta Italia, sono la stessa cosa. Tra l'altro vogliono farci fuori dal Consiglio regionale con una proposta di sbaramento del 6%, quindi che cosa c'è di meglio che appoggiare chi con onestà e trasparenza vuole rinnovare e far rinascere l'Aquila, che sarà un laboratorio nazionale. Di questo non dobbiamo dimenticarlo. Noi ci puntiamo con Giorgio De Matteis.